C'è poco da fare, al Prato piacciono le montagne russe, la domenica vola in alto, il mercoledì visto che si giocava il turno infrasettimanale riscende verso il basso salvato dal Capitombolo dal solito Tavano. La squadra bianco-azzurra è impattato per 1-1 sul campo del Forlì al tempo di una partita nella quale per larga parte del confronto è stata costretta a difendersi dagli attacchi dei modesti romagnoli che hanno chiuso la partita addirittura con 7 under in campo. Insomma un passo indietro per il Prato. Primo tempo al piccolo trotto, il Forlì tiene il bandolo della matassa e il Prato si limita a controllare. Primo sussulto al trentesmo con Falchini che difetta nella mera. La replica del Forlì è affidata alla zuccata di Croci che sfiora il palo. Al minuto 36 il Forlì passa in vantaggio, fallo in area di rigore di Falchini su sedioli che induce l'arbitro a concedere il penalty. Il replay per rivedere l'accaduto e certificare la giusta decisione arbitrale. Dal dischetto l'esperto Bomber Ferrari non sbaglia, è 1-0 per il Forlì. La replica del Prato è alla camomilla con Falchini prima e Cellini dopo con il portiere De Goli che disinnesca senza problematiche di sorta. Nella ripresa la squadra lamiera alza i giri al motore senza colpo ferire. Il Forlì è ficcante in ripartenza. Al cinquantottesmo i romagnoli sono pericolosi con Kertos, il portiere Piresro disinnesca. Il tecnico Vincenzo Espovito rivoluziona l'attacco inserendo Tavano e Wattarà per Falchini e Cellini, mossa che diventerà subito decisiva. Proprio sull'asse Wattarà, velo propedeutico Tavano, nasce la rete del pareggio laniero griffata dall'intramontabile Bomber, Exempoli, Roma e Valencia. È 1-1. Il Prato nel finale ci prova ma il Forlì imbottito di giovani tiene bene. L'occasione più ghiotta capita a Wattarà su assist del solito Tavano ma l'ex attaccante del Lavello, alla mira difettosa, finisce 1-1 con il Prato che rallenta e non approfitta della sconfitta interna del Fiorenzuola, secondo in classifica con il Lentigione. I bianco-azzurri continuano a viaggiare a corrente alternata e domenica all'Adonelli di Montemurlo arriva la capolista aglianese per una sfida già spartiacque della stagione del Prato, lo dicono i numeri.